La realtà è che siamo di fronte a una giunta di cinici che fa i conti esclusivamente con i dati di bilancio senza voler rinunciare a nulla di superfluo ma sempre pronti a mettere nuove tasse sui cittadini. E' questo il commento del capogruppo regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri all'atto di approvazione della disciplina degli indicatori ISEE una delibera, la numero 726 del 15 novembre 2016 che contiene un'ammazzata economica per le famiglie abruzzesi. Il gruppo consigliare di Forza Italia accusa la regione di aver ignorato il parere espresso dalla quinta commissione sulle nuove soglie ISEE che prevedono l'introduzione della compartecipazione alla spesa sanitaria anche per le famiglie con disabili e l'abbassamento della soglia di estensione per i ticket da 15.000 a 8.000 euro. Pare veramente incredibile che la vita di disabili, anziani con problemi di mobilità, ragazzi con problemi di apprendimento e il costo sulla ricaduta che questa assistenza ha sulle famiglie possa essere giudicato sulla base di un parere che arriva tre giorni prima o tre giorni dopo. La quinta commissione boccia la organizzazione delle soglie ISEE prodotte dall'assessorato che usa un escamotage perché il parere dove sarà dato in 20 giorni e sarà dato in 23 giorni e riapprova le soglie ISEE come sono a cui i comuni dovranno essere obbligati altrimenti non vedranno trasferirsi i fondi regionali per erogare i servizi sociosanitari. Malgrado questo l'assessore Scrocco trattiene anche un 5% del fondo sociale da assegnare ai comuni e agli ambiti per azioni dirette ovvero per azioni sociali scelte da lei. Un giochino stupido perché arriviamo alla finanziaria e noi faremo uno istruzionismo alla morte fino a quando le soglie ISEE non saranno riviste.